la sveglia perché c'è c'è ancora sta roba di che cosa? solo che io più passa degli anni più fatti e allora ho puntato la sveglia hai visto fatto bene infatti il video è partito la puntata alle sette e quindi sono bello, freschissimo, caricatissimo, carichissimo si ti faccio un gioco bene la base del gioco è la lucidità facciamo così guarda io mi giro tu sollevi un po di carta e prendi quella che hai capito tieni la faccia no tieni queste le mettiamo via ok guarda la ricorda la farla vedere ok fatto concentrati sulla tua carta ok devo capitalizzare sull'acquisto devi ammortizzare non ho capito quindi tenterò di indovinare la tua carta concentri un gioco di pensiero uso questo recettore capillare che a livello gengivale assorbe il pensiero sono mezzo addormentato vuoi che trovi anche una aspetta che è più carino che non si veda la però poi ci sono i filestini lo tiriamo così vabbè lo metto qua concentrati sul colore della tua carta rosso no no dico questo che era rosso che mi dava un fastidio tremendo agli occhi lo lascio qua adesso torniamo a noi concentrati sul colore della tua carta sto facendo del fishing ma che fish hai ragione dai gira il 10 di picche chiudiamo torniamo a dormire tu hai tagliato hai scelto una carta qualunque ma è il 10 di picche quindi falla vedere e poi si torna a nanna nanna i radici di picche scusa potevi tagliare vabbè ragazzi come sempre è un piacere noi inseriamo ma qui questa roba qua su Talking Magic ah ok non me lo spieghi però no assolutamente no perché su Talking Magic c'è il classico Battle of Wits beh comunque mi rimbalzo con Nick e ci autofaccia ci facciamo vicenda si devo dire così però ci facciamo vicenda è brutto stavo finendo la frase eh 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 delle late night locations si tra l'altro adesso mi sta venendo un dubbio si tu non hai mai visto Nick no io sono convinto di averlo visto ma allora non so se si in questo momento sono sveglio e Nick è un sogno o se Nick fa parte del mio mondo da sveglio e il contesto Inception Inception attivate la campanella magari non attivatela quando dormiamo no certo che no perché saranno più arriva niente è inutile esatto e lui soprattutto se avete notizie di Nick scrivetelo nei commenti sotto si e niente ah naturalmente è puntata anche la sveglia no torniamo a dormire tra l'altro se procuri una coperta perché lui ha freddo eh questa cioè questa è nuovissima fresca giovane buona roba buona roba cacchio ciao ciao